Ti piace il cinema? Qual è il tuo film preferito? Me lo racconti? Sì, di sicuro il mio genere preferito sono gli action, però il film che mi è piaciuto di più è stato Rob007 che parla di James Bond che deve salvare l'Unghilterra e tutta la donazione qual è la cosa migliore del tuo lavoro? Questo lavoro mi importa stare a contatto con molte persone, parlo sia di quando insegno sia di quando sto su di sé, questa è una cosa che ti piace molto. Qual è la cosa che ti ha divertito di più durante il corso? Credo che mi ha divertito molto più il corso, cioè è stato bello questo corso, ho potuto incontrare persone nuove, hanno fatto un'ambicizia. A me è piaciuto moltissimo riprendere, anche fare le perifiche per una volta nella vita. A me è piaciuto moltissimo riprendere, anche fare le perifiche per una volta nella vita. C'è qualcosa che ti piacerebbe fare da grande? Da grande mi piacerebbe fare uno scrittore, perché mi piace tanto leggere e scrivere e mi piace viaggiare. Secondo te siamo stati bravi nel capire e ascoltare le direzioni? Ma siete stati comunque attenti e interessati, per cui sì, siete stati una complessa. Sai cos'è il piano americano, non lo parli? Allora, il piano americano è stato inventato nei film West per riprendere le mani dei pistoletti durante un guerro. Turmi住boxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxboxbox